Salve a tutti, secondo giorno a Parigi, siamo ai giardini di Napoleone, cosiddetti Jardin de Tuglieri. Stiamo arrivando dall'Umbro, prima siamo passati per Notre Dame e prima ancora abbiamo fatto colazione al nostro hotel, la Tour de Notre Dame de Paris. La mia colazione all'hotel è stata abbastanza abbondante, ho preso un latte con caffè, due toast con burra e marmellata, un pain de chocolat e uno yogurt. Colazione di Stefan, colazione di Stefan inizia con un croissant, un pain de chocolat, continua con uno yogurt e frutti di bosco, per poi ripropone il croissant. Un croissant e due pain de chocolat, due toast con burro, un panino con salame, formaggio e burro, tutto condito con un po' di latte, macchiato con caffè. Per concludere, un panino al burro e prosciutto cotto e la torta. Forse mi sono dimenticata qualcosa. Al tutto, al costo di 13 euro. Hai fame Stefan? Ancora un pochetto sì. Beh, allora salutiamo e ci rivedremo dove? Per pranzo. Per pranzo. Ok, bye bye. Ciao.